ciao allora oggi sfogliamo il catalogo del libro che numero 9 che valido fino al 26 luglio del 2017 in questo album troverete tantissime offerte perché tutti i prodotti sono scontati fino al 40 per cento avete sentito bene sì poi ci sono le offerte di fine serie con sconti fino a 60 e quindi un album wow e lo abbiamo sfogliato molto velocemente perché davvero vedere tutti i prodotti sarebbe troppo ed iniziamo a sfogliarlo allora eccoci dunque vediamo subito l'anteprima ok direi di andare abbastanza veloci in questo album e vi mostro tutti i prodotti perché tutti sono scontati fino al 40 per cento quindi ora ve li mostro ecco tutti i prodotti della linea viso quindi essere un vegetale quella ed è ride e fermi te tutti scontati fino al 40 per cento elixir 79 eccola qua ed è anties global ecco qui riscred tutti quanti prodotti fino al 40 per cento quindi davvero grandi offerte l'euro de feu lifting bio eccoci qua i trattamenti viso eccoli qui quelli idra vegetale tutti quanti la sebo vegetale ed è quelli per la pelle sensibile sensitive vegetale pur system la bb cream nelle varie colorazioni correttori tutto il make up il cushion del fondotinta gli altri tipi di fondotinta tutti quanti anche prodotti make up scontati fino al 40 per cento la terra il mascara le mattite occhi e quelle qui gli ombretti tutto quanto quindi davvero momento di fare super scorta le mattite per sopracciglia che sapete che adoro matite labbra primer labbra i rossetti eccoli qui idee rossetti stick effetto gloss gli smalti eccoli qua tutti quanti poi ovviamente i trattamenti per il corpo con gli esfolianti trattamenti corpo nutriente riparatore eccole qua con l'idratazione i prodotti per i piedi tutti i solari eccola qua protezione medio bassa media protezione alta il dopo sole la linea è almonoi tutti i profumi tutti quanti le vostre profumazioni preferite veniamo ora ai prodotti di fine serie che sono scontati fino al 60 per cento quindi tutti i pennelli perché sapete che li hanno rifatti eccoli qui gli smalti quindi davvero il momento di prendere i colori preferiti eccoli qua i prodotti per nail art e l'ombretti in crema lunga durata oppure il mascara smoky o il blush questo nel colore cranberry shintillant ide vari rossetti ad esempio il gran rouge e rose oppure matita vegetale il sexy pulp ed i rossetti nelle varie tonalità del nude del rosa o del rossa lo struccante i 3 tè detossinanti ed il balsamo istrutturante quello a azione intensa il gel doccia alle ferie di loto e delle varie profumazioni che sono andate in fine serie e questo molto velocemente era tutto l'album allora eccoci abbiamo sfogliato tutto l'album vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini c'è sempre anche il link per scaricare il formato pdf e il catalogo così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi elettronici come siete più comode e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Vrochè ciao 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 ciao